La terapia d'onde d'urto è una terapia che normalmente viene prescritta dal medico curante o dallo specialista e può essere effettuata all'interno dei vostri centri di fiducia, centri di fisioterapia e di medicina. Viene prescritta normalmente o consigliata quando c'è un problema di tendinopatia. Per tendinopatia intendiamo un'infiammazione del tendine che può essere la più conosciuta tendinite dell'achilleo piuttosto che la tendinite della spalla. L'onda d'urto viene anche prescritta per quelli che sono i problemi dell'apparato muscolo-scheletrico, quindi anche per il trattamento dei trigger point o le contratture muscolari. È una terapia che dà un risultato di cura a distanza di 50 giorni e la cura può essere accertata attraverso un'ecografia che viene fatta nel post trattamento. Ciao a tutti!